Ragazzi, oggi vi mostrerò 50 segreti su Minecraft Ebbene sì, partiamo dai primi 10 e gli altri 40 arriveranno in tanti altri bellissimi video Ma tutti quanti questi segreti potete provarli nei vostri mondi 1.17 Ma sono cose che sicuramente non avrete mai visto Quindi, ragazzi, guardate tutto quanto video perché alcune cose sono super sorprendenti Perché io appena le ho scoperte sono stata una roba super divertente e anche super super strane Partiamo subito salutando Ayub, Marco e Giuliana Che sono i campioncini che hanno salutato con l'hashtag Minecraftita nei scorsi episodi E se volete essere saluti anche voi, ragazzi, mi raccomando scrivete l'hashtag Minecraftita col vostro segreto preferito Perché noi partiamo subitissimo da questa cosa qui che è super super divertente Cosa succede se mettessimo degli zombie sopra dei girasoli con dei tappeti bianchi? Lo so, è una domanda molto molto strana Lo ammetto, ragazzi, mettiamo anche notte già che ci siamo così Vi faccio vedere bene l'effetto Guardate qua, io adesso mi metterò in modalità sopravvivenza E mettiamo uno zombie Lui proverà tecnicamente a venire verso di noi Ma guardate cosa succede Inizia a roteare senza un senso logico Cioè voi spiegatemi perché adesso uno zombie dovrebbe roteare su dei girasoli Poi se siamo shiftati lui smette Appena ci troviamo dallo shift lui inizia a roteare e roteerà per sempre Non lo so ragazzi perché succede ma è stranissima Cioè vi giuro lui potrebbe rimanere qua tutta la notte così a roteare Fino a quando noi non rimaniamo shiftati E quindi tra un pochino dovrebbe raggiungerci Anzi Non lo so perché fa sta cosa ragazzi Però vabbè poverino lasciamolo roteare così direttamente in questo modo Dai il primo segreto è stato carino Ma non tanto quanto particolare quanto quello che vi mostrerò in questo momento Perché? Perché ragazzi per la prima volta nella storia di Minecraft Vi dimostrerò come ottenere in vanilla le slab verticali Perché lo sapete ragazzi Sono tutti quanti avere le slab Questi piccoli oggetti molto molto belli per l'estetica Ma in verticale è una cosa che Minecraft non ha mai fatto Fino ad ora Perché adesso vi mostrerò il segreto per ottenerle Allora prendete qualunque tipo di wall In questo caso ho preso questo qua in modalità brick Cioè in mattoncino Mettete a lato dei blocchi di redstone e dell'acqua sotto Poi prendete la TNT E la mettete così a lato ragazzi E guardate cosa succede Prima i murettini Che erano dei semplici appunto wall E sono diventati dei bellissimi slab verticali Questa cosa qui lo so che è assurda ragazzi Però come avete visto ora l'abbiamo smontato Ma guardate questo È diventato uno slab verticale bellissimo Questa roba qui ragazzi è assurda Perché la prima volta che l'ho visto Ho pensato Non pensavo potesse mai succedere una roba del genere In Minecraft vanilla Ma eccolo qui Guardate che bello E poi diventa semplicemente un wall normale Se mettete qualche blocco attorno Ma questa cosa qua è super assurda Cosa succede se riempiamo il nostro inventario Di qualunque tipo di blocco E poi lanciamo un tridente Che ha lealtà livello 3 Questa cosa qui ragazzi ve lo siete mai chiesto Perché tecnicamente il nostro amico tridente Dovrebbe per forza ritornare all'interno del nostro inventario Però non abbiamo più spazio Dove diamine andrà a finire Quindi questo tridente Guardate cosa succede Quando io ho visto i risultati di questo effetto Ho detto ma che diamine succede Inizia a rotearci attorno ragazzi Senza un senso logico Perché non trova appunto lo spazio nello slot Quindi rotea come se noi fossimo un fantasma E rotea fidatevi super velocemente Infatti non so se si nota ragazzi Ma in realtà c'è un effetto molto molto strano Appunto che rotea super veloce E intanto rimane fermo a fianco a noi È una cosa super super strana Ma questa curiosità qua è super bella Fino a quando poi non droppiamo qualche oggetto E ci rientra nel nostro inventario Possiamo anche lanciarlo così E prendere gli oggetti in mano E riattivare l'effetto in questo modo ragazzi Però colpisce Ho quasi colpito un'ape Dannazione stavo per far fuori un'ape Guardate come rotea per bene il campioncino Stavo qua super divertentami Diverte sempre un sacco Ops Mi ho spiegato un nuovo segreto Vabbè andiamo col prossimo a questo punto Ora vi farò vedere l'animazione Più strana che possiate mai vedere Nella storia di Minecraft Per andare a dormire Perché si può andare a dormire Su Minecraft Da in piedi Però Bisogna partire da sdraiati in questo modo Guardate cosa succede Allora vi metto la visuale da esterno Guardate qua cosa succede A parte che adesso la visuale è super buggata Siamo di lato a vederla Sta roba qui è stranissima Perché in realtà guardate come si dorme Guardando la visuale dei piedi Invece no Si possono utilizzare un sacco di visuali super storti Adesso mi si vede la faccia Senza un senso logico Ma Se voi la guardate invece Dalla visuale normale In questo modo Guardate l'animazione Si va a dormire Come se ci fossimo appena sdraiati Molto curioso ragazzi Questo nuovo metodo Per dormire su Minecraft Una leggenda narra Che il pistone è un blocco solido Ma oggi vi smonterò questa leggenda ragazzi Perché noi Passeremo attraverso Questi pistoni Attivandoli con la redstone Sopra Appunto loro si attiveranno Ma noi mettiamo per esempio Qua questa bellissima trapdoor Se volete ci mettiamo anche in survival In realtà la trapdoor deve essere più bassa E guardate cosa succede Noi possiamo passare attraverso I pistoni Su Minecraft Si è un movimento un po' scomodo ragazzi Però in qualche modo Noi riusciamo a salire Innanzitutto Sopra a un terzo Di blocco Perché come notate ragazzi Questa parte finale qua Del pistone È un terzo E in realtà Freghiamo un sacco Nel sistema di Minecraft Perché riusciamo a passare Atterra su degli spazi Che tecnicamente All'interno di questo gioco Non esistono Cioè sta roba qui A me piace tantissimo Perché a me piace Veramente sempre un sacco Scoprire questi dettagli Super strani E super segreti All'interno di tutti quanti I giochi che gioco ragazzi Quindi a me Queste cose qua Piacciono veramente tantissimo E questo è un segreto Che nessuno Ha mai mostrato Su Minecraft Cioè passare appunto Tra un pistone e l'altro Molto 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 carino Anche se molto molto Buggato Ma voi lo sapevate ragazzi Che si possono Aggiustare Gli Iron Golem Su Minecraft Lo so È una cosa assurda Adesso vi spawno Un bellissimo Iron Golem goloso Guardate qua E lo prendo un pochino A spadate Giusto così Perché ho bisogno Di craccarlo Come si suol dire Come notate infatti Piano piano Che l'Iron Golem Prende danno Dice No l'ho fatto fuori A queste crepe qua Però ma voi lo sapevate ragazzi Che potete Aggiustare Un Iron Golem Con dei lingotti di ferro Semplicemente Spammando su di lui Cioè io l'ho riempito Di spadate E con tre Semplici Lingotti di ferro Voi lo potete Aggiustare Quindi se per esempio Avete un villaggio In cui voi siete affezionati O avete un Iron Golem Vostro personale Che vi protegge Nelle vostre case Voi lo potete Aggiustare Senza far sì Che vi abbandoni Che vi lasci Perché purtroppo Fa una brutta fine Eh signor Iron Golem Arrivederci Bene Ora ho un Iron Golem Contro Oh oh Sto per far fuori Un Iron Golem Non mi sta attaccando Ciao signor Iron Golem È la prima volta Che ero Iron Golem Non mi fa del male Su Minecraft Ve l'ho detto Che testavamo solo E unicamente Oggetti strani Molto molto strani Ora vi mostrerò Come fare una farm Di cibo Con un sistema Di redstone Ma ragazzi Non è una farm Di cibo Molto semplice Perché a noi Ci serve anche Del bone meal Quindi ci prendiamo Anche del bone meal E una bellissima zappa E semplicemente Questa farm Vi darà la possibilità Di farmare carote Diciamo Cibo Che si può piantare A terra In pochissimi secondi Ma ad una velocità Stratosferica Prendiamoci anche Un bellissimo pistone Molto molto semplice Così ci prendiamo Che questo E dovete costruire Questo semplice sistema Adesso vi mostrerò Appunto come farlo Poi prendiamo Anche della redstone Dei blocchi di redstone E dei repeater Quindi facciamo Un circuito Qua in alto Che prenda Tutto quanto I vari blocchi di stone Facciamo una piccola scala Qua distruggiamo Un po' di blocchi di grass Che non ci servono E poi facciamo Un piccolo Orologio di minecraft Se non sapete Come si fa ragazzi Ora ve lo mostro Semplicemente Basta che mettete I repeater Uno incrociato all'altro Prendiamo anche Dei blocchi di redstone In questo modo E li mettiamo così Poi a fianco Mettiamo un blocco Lo togliamo subitissimo E si fa un orologio Che servirà appunto A questo sistema Noi all'interno Dei dispenser Mettiamo un sacco Di bone meal Ma veramente tanto ragazzi Devo riempire I dispenser di bone meal Fatto in questo modo Poi zappiamo Il terreno qua sotto Poi colleghiamo Con la redstone In questo modo E semplicemente Il gioco è fatto ragazzi Perché basta che voi Spammate le carote Direttamente qua sotto E farmate Una quantità Di carote In pochissimi secondi Devastante Cioè guardate Quante carote Abbiamo fatto Spammando solamente Una In 5 o 6 carote Cioè sta roba qua È assurda È come avere Letteralmente Cibo infinito In minecraft Oltre ai minerali Infiniti Che vi ho mostrato Nel scorsi episodi Di 10 segreti In minecraft Oggi Vi mostro come avere Il cibo Infinito Come carote Grano Quanto altro In minecraft Questo è il Circuito più assurdo Di sempre Ora vi mostro Una curiosità Molto strana Che c'entra Con minecraft Bedrock Perché guardate Se voi piazzate Una campana In questo modo A terra E lanciate addosso Del diamante Non succede nulla In minecraft Java Infatti voi direte Marco cosa dovrebbe Succedere Semplice La campana ragazzi Risponderà A tutti i pezzettini Di minecraft Che voi tirate addosso Guardate qua Ma Non c'è rumore Ma fa l'animazione Adesso funzioni Invece Quando mostrate Prima non andava Adesso funzioni Ma guardate Vi mostro L'ultimo segreto Invece anche questo Su minecraft Bedrock Ragazzi Guardate cosa succede Dovete mettere Un pistone Di quegli sticky E piazzare sopra Un bellissimo blocco Di redstone Poi bisogna prendere Un pistone Invece sticky normale E piazzarlo direttamente A terra In questo modo qua E sopra piazzarci Un bellissimo pezzettino Di tritolo Oppure il tnt Chiamatelo voi Come volete Poi bisogna mettere Un repeater Metterlo su tre tick Su uno Scusatemi L'errore mio E per concludere Pezzettino di pietra rossa Guardate cosa succede Il blocco di redstone Non sarà mai Abbastanza veloce Per attivare La tnt Però invece Su minecraft normale Si attiverà subito Perché in realtà Se notate Molto molto bene C'è un millisecondo Di tempo Dove la tnt E la redstone Sono attaccate Un all'altra Ma Su minecraft bedrock Ragazzi Non si sa il motivo Per cui Appunto Non si attivano Però se per esempio Cambiassi questo oggettino qua Si attiva Guardate qua Infatti tra un po' Esploderà tutto Tranne Ovviamente il pistone E il blocco di redstone Noi ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Io spero che questo qua Vi sia piaciuto Perché era un sacco Pieno di curiosità E di segreti Di bug Che sicuramente Non conoscerete E che non avrete mai Visto su minecraft E che potrete provare Anche voi Se volete anche le altre 40 curiosità Ti diamo questo nei commenti E noi ragazzi Ci vediamo in un prossimo video Da Marco è tutto Scegliete uno dei video Qua davanti Ciao ciao